tra i primi cinque porta a casa la vittoria nessun colpo a segno avete del gas in arrivo qualcuno tossisce capace che vinciamo così tutti i morti in gas sono morti si si il primo è eliminato resta uno che vittoria di merda non è stata bella questo è un posto stabile pteriore no 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 Magdalena